ben ritrovati di nuovo su review oggi vado a recensire insieme a voi questa maschera da shioza snow marcata salomon un marchio noto di qualità sono andato ad acquistare questa maschera ad un prezzo di 39 euro scontato link in descrizione di amazon e devo dire che ho preferito acquistare qualcosa ad un prezzo un po' diciamo è superiore a quelli ai prezzi che si trovano su amazon delle altre maschere ma semplicemente perché qua parliamo di una marca comunque conosciuta di qualità molte maschere fate attenzione che sono venute su amazon sono spesso diciamo non dico inaffidabili ma non si sta molto molto sicuri e quindi quando si parla di acquistare un prodotto che poi andato ad utilizzare comunque durante una sciata dove c'è il sole è meglio proteggervi la vista comprando qualcosa che c'è un sinonimo di qualità piuttosto di qualcosa che non si sa se poi la lente effettivamente protegge quanto c'è scritto perché sennò rischiate veramente di farmi male alla vista e non si scherza con queste cose io comunque vi do il mio consiglio poi ognuno può fare quello che vuole vado a far vedere questa maschera nello specifico l'ho comprata questo modello qua la lente tonic orange e c'è anche nella colorazione bianca è una lente adesso vado ad aprire insieme a voi la scatola made in Romania ma la produzione è stata spostata in Romania quindi state tranquilli vado a far vedere la maschera che alla fine è regolabile universale e universale eccola qua avete le striscette diciamo gommate in silicone per andare a fare un grip ottimale sul casco ed è ripostita in questa gomma piuma soffice vedete provandola appunto calzandola è veramente comoda la lente è una lente comunque non so se riuscite a vedere la lente arancione leggermente specchiata che è adatta proprio come c'è scritto anche sul 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 sito del produttore di Amazon è adatta per le condizioni meteo di pioggia cioè pioggia scusate sole ma anche un sole misto a nuvole magari leggera neve quindi una lente che si adatta diciamo a queste condizioni che solitamente sono presenti quando si va a sciare e lo vedete anche qua alla fine dal simbolino abbiamo una cosa molto interessante che mi ha spinto anche a acquistare questo modello perché ce ne sono tanti su Amazon di queste maschere della Salamo il fatto appunto che non è né troppo grande e soprattutto alla presenza delle bocchettine di areazione che ti permettono di non avere qua c'è un pelucchio di non avere condensa all'interno come anche qua se vedete è tutto diciamo aperto in modo che possa traspirare l'aria comoda si adatta secondo me ad ogni tipo di testa di casco perché è regolabile la fascia e devo dire che fa la sua figura c'è anche bianca appunto per chi volesse prenderla magari bianca o magari per le donne che non vogliono la maschera nera però devo dire che vale la pena è un bel acquisto c'è anche da dire inoltre che la protezione dei raggi UV è del 100% viene dichiarato così sulla pagina del venditore e inoltre oltre alla tecnologia ovvero il campo visivo wide che vi permette di vedere anche sugli angoli più esterni potete cambiare la lente senza problemi quindi sostituirla con una lente che magari vi piace di più di un altro colore quindi adatta ad un'altra condizione climatica un prodotto veramente valido